Alla risoluzione Cicchitto, Garofani, Pisicchio, Monchiero, Locatello, Alfreider ed altri, numero 6, 00338. Avverto che i presentatori hanno accolto le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo. La pongo pertanto in votazione come riformulata con il parere favorevole del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Folino, Albanella, Nicchi, Arlotti, Di Salvo, Frusone, Di Benedetto, Cirielli, Epifani, Gitti, Mognato, Di Salvo, Meloni, Pannarale, Epifani ancora non riesce a votare. Allora, vediamo se c'è, eccolo, è andata, Di Salvo, è bloccato, ora mandiamo il tecnico. Allora, Tinagli ha votato. Boccuzzi, che succede? Andato, benissimo. Tripiedi. Allora, ancora con il terminale della deputata Di Salvo, eccola, è andata. Tripiedi ha votato? No. Andato? Bene, ci siamo tutti allora. La votazione è chiusa. Favorevoli, 328. Contrari, 113. La Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione...